Abbiamo fatto diverse immersioni fino a che l'abbiamo trovato e l'abbiamo documentato. Fortunatamente siamo entrati anche all'interno, non ci sono resti di corpi umani. Nove persone componevano questo equipaggio. Nove persone componevano questo equipaggio e quindi la nostra paura era magari che c'era qualcuno all'interno. Invece siamo entrati all'interno, abbiamo visto la sala radio e la sala del pilota, che la parte superiore è completamente scoperchiata, quindi abbiamo visto tutta la cloche, i comandi. L'aereo certo non si trova in una buona posizione perché lì i problemi sono due. La visibilità, quindi abbiamo avuto difficoltà a trovarlo, e la seconda sono i pescatori da strascico.